bella a tutti ragazzi qui è bazookay parla e oggi siamo su un nuovo video siamo su mou m o u un nome del cioè questo questa è la cucina questo è il laboratorio questo è dove si gioca e questa è la camera da letto quindi noi andiamo a giocare a a bull wow che divertente scusate che gioco è questo vabbè jump vai play no ci voglio riprovare ragazzi voi non capite proprio questo qua è il gioco del secolo è impossibile è impossibile ve lo giuro è un gioco difficilissimo cosa ho fatto? cioè praticamente non esistono le pareti quando capirò come funziona dovete darmi un premio nobel ma nooo non si capisce niente cambia gioco cambia gioco cambia gioco no voglio cambiare gioco qua ne indietro non si pone ragazzi non riesco a capire niente lo giuro devo utilizzare il joystick per registrare dirt3 ma purtroppo steam deve fare l'aggiornamento ah perché è vero è un'applicazione per smartphone perché oggi siamo su giochi da smartphone oh smartphone game ecco cosa è successo non devo beccare le nuvole ma le nuvole non fanno male ok si dire che questo gioco è noioso è farne un eufemismo mudiamo in fretta scusate quante vite abbiamo no prendete no ecco oh finalmente dobbiamo capire un po' come funziona buono mi dicono che secondo me alla fine di sto gioco sarà sazio ah no però la fame non ti sale no giustamente se giochi quella stavo per mangiarmi un incudine ah no le vite sai non valgono comunque cambiamo stanza andiamo dormi ci impieghi troppo te a recuperare l'energia no food vai allo shop food fruit è la bestia compra 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 intanto c'è mio papà che urla due tre quindi tre sto registrando tre 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 vabbè vabbè compriamo il patto fritte lo facciamo ingrassare come un porco questo qua e drinks e drinks l'acqua va bene adesso questo praticamente ti do questo 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 non va sai che non ho comprato solo l'acqua qua buona buona l'acqua vero ah è sazio puliscilo per bene così mi danno soldi cioè potion compra 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 50 50 cosa ho speso 59 come se avessi speso 59 euro per una cosa che mi dà tutta l'energia 4.999 euro per farlo diventare grasso una pallina ping pong colorata 99 euro per una pallina ping pong colorata 6 grigi ha pure 190 laboratorio no playroom e giochiamo con questa pallina ping pong ma non gli viene la nausea no wow ipno si gioco meno divertente che abbia mai fatto vai di co 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 12 12 12 12 in realtà secondo me è tipo un gioco che va alla lunga sta roba però guardate che esperto genio altro che quei tiratori di biliardo io sono migliore basta guardate che fate così e sbagliate il tiro e non ne sarete felici perchè dovrete lanciarne altri due si 58 colore adesso oh oh diamine sto perdendo sto per perdere ragazzi me lo sento lo sto per perdere ok mi sa che per oggi può finire qua con questo bellissimo gioco però aspettate prima andiamo nel bedroom e lo facciamo dormire per oggi finisce qua e un altro gameplay di giochi da smartphone finisce qua sto morendo praticamente e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.